Non so quanti di voi desiderano che io perda Call of Duty Ma sono il primo che dice che voglio vincere tutte le partite Quindi mi toccherà un'altra sfida oggi Un'altra sfida con i miei occhiali E la mia discussione E partiamo subito Qualità pubblica Trova partita Nucleo E tutti i controbuti Allora Oh grandissime abbiamo trovato subito la qualità ragazzi Ancora stand off Stand off fino Ok 9 Possiamo ancora recuperare No Cazzo Prima morte Camper Ma dove cazzo eri? Ah Bravo Come cazzo hai fatto? Ma va a cagare Ma muori stronzo Muori grandissimo Attenzione Mi sa attorbitare l'enemico online Ma vaffanculo dai Ma vaffanculo Oh ma stai zinter No dai non c'è dentro Ma non può Ma muori stronzo Che cazzo Ma non vale giocare così Vai Non sono qui Dove non avere qui Niente Ah ok No volevo capire Andiamo qui su Andiamo qui su Dai dai Eh non fa raga Ok Ah Pensavi di fregarmi eh Pensavi di fregarmi No ragazzi Ma dai Ma lo fatete anche voi Cazzo Non muore Cioè Sembra che li stia sparando Pagli di gomma Ma vaffanculo No dai Sei un nupone di merda Figlio di troia Ma fai schifo Ma muori Ma muori Cazzo ma dai Ma che scarsa Guardate con la shotgun Ma muori Grandissimo Uh 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 Sali sali No È shot bitch Grandissimo Ma muori Ah ok Ah ok UAB UAB Pronto UAB in arrivo Attenzione UAB nemico in arrivo In chiulo Andiamo Grande Ancora Ancora Ma vai a cagare Ma vai a cagare Tuo avvi nemico Sopra di noi Vai almeno chiamare l'elicottero Ragazzi Riesco a chiamarlo velociamente Uh uh Chiamato l'elicottero Gradissimi Dai Andiamo Ce la devo fare ragazzi 2027 Ce la possiamo fare Non penso proprio È troppo Ah ok È il tipo con la tetta di fuori Ragazzi Dai L'elicotterino Ammazza Bello Mi ha ucciso Ma è una puttanata Ok 24 Raga Possiamo ancora recuperare La vostra torretta È stata distrutta Ah ok No Merda Ragazzi Ottima partita Però dai Raga Siamo riusciti a arrivare A terzi 25 e 11 Cosa possiamo pretendere di più A parita Già incominciata Speriamo di vincere la prossima Un po' Diciamo un po' Connessionata A quel Spark vince Perché mi ha massato Un bel po' di volte Non sono mai riuscito A buttarlo giù E niente Ok Perfetto 15 minuti ragazzi Non che tanto Alla fine Pensavo di più E Voltiamo Al jacket E partiamo subito Con la seconda Ragazzi Non so cosa ha fatto di male Al nostro signore Ma Ho dovuto aspettare Almeno 5 minuti Per trovare una fottuta partita È ovviamente Già incominciata Ragazzi Io Mi scuso Non so Chi ringraziare di più Nostro signore La Tiscali Comunque sia una connessione di merda Partiamo subito M27 Tutti Ok Anche la Gatte Bello Ragazzi La Gatte Usiamo Le M27 Ora Ma come cazzo Hai fatto Tantissimi Teletrasportato Zio Peggio dei maghi Peggio dei maghi Del crimine Ragazzi A proposito di cinema Ragazzi Mi sono andato a vedere ieri Mi sono andato a vedere ieri Come cazzo si chiama Ragazzi Pain Again Un bel film ragazzi Dove essere sincero Ho dato due orette Mi sono Siccome parla anche di una storia Di una storia vera Ragazzi Quindi Vi consiglio di andare a vederlo U.A.V. Pronto Che meno U.A.V. Io sto laggando Ah ok No no Volevo capire Eh Ciò Beh Ciò Dalla distanza Ragazzi Corretta Pronto Allo schieramento Bello Come sono morto Vorrei capire Ah sto morendo Sto morendo Laggando Ragazzi Allora mettiamoci la torretta Qui raga Così spacchiamo il culo Si stronzi Vai 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 Grande Stiamo recuperando Ragazzi 11-14 Ce la possiamo ancora fare La parita ancora Recupera Recuperabile Ho visto qualcosa Che non mi è piaciuto No Attenzione Ok Bravissimi Mi sta laggando Come non mai Non so perché Ragazzi Io non posso farci nulla Puto Ma muori Cazzo di camper Che palle Ma guardate La gente Ragazzi Ma io Non voglio capire Ti giuro Non voglio capire Voglio Solo Che la gente Impari a giocare Che la gente Muoia subito Quando io la sparo E non che muoia Quando cazzo vuole Cioè no Vorrei capire Dimmelo Ok Ok Non c'è nessuno Stronzo Olè Baffanculo No vabbè Io sono storto Ragazzi Non mi hanno concesso Bello Bello Questi si che possono essere Definiti Cecchini Brav Cecchini che si sparano Con fucili D'assalto Che cazzo Ragazzi Ma vi sembra normale Un cecchino Spara la rafrica Che cazzo è Qua Oh cazzo di camper Pezzo di merda Ti inculo Ma muori Camper di merda Grande Stiamo vincendo Ragazzi Dai Grande Grande la mia torretta Le voglio troppo bene Vede qua Ma muori Stronzo Vinco io Ah ok Mi sono cagato ragazzi Pensavo di Sarei già morto Comunque si ha 28 o 9 Ragazzi La seconda La recuperiamo La prima Stiamo anche vincendo No Non c'è Non c'è nessuno Nessuno Ok No Volevo capire Ma che grande Ragazzi 39 Abbiamo vinto Grandissimi Ovviamente la gente Abbandona Grande Bravi ragazzi Guardate Siamo in 5 Tutti abbandonano Perché ovviamente Perdono In volo ragazzi Jump 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 Saltiamo Saltiamo tutti insieme Comunque sia ragazzi Spero che la puntata Vi sia piaciuta Ho fatto due Sì Ho fatto due partite La prima l'ho persa Purtroppo Ho iniziato Troppo tardi la partita E soprattutto C'era Dovevo Diciamo Cimentarmi In una partita Dove c'erano Comunque sia Due ragazzi forti Mi sono divertito Comunque sia Da cura Non mandate tutti Iscrivetevi Mi mettete mi piace Commentate Se avete apprezzato il video Ci vediamo alla prossima Io domani Probabilmente sarò al mare Spero di registrare Per lunedì Per voi Quindi ci vediamo Alla prossima Ciao raga